20 destra 5, roccia interna 300, destra 6 lunga 300, destra 5 chiude corta, frena 50, sinistra 2 intorno alla roccia, 50, destra piena stringe 150, destra 4 stringe roccia interna dossi 200, sinistra 5 lunga, roccia interna 80, attenzione non tagliare destra 5 stringe 50, frena per destra 6, in sinistra 5 chiude, in destra 4 lunga stringi, sinistra 3 non tagliare e destra 5 20, destra 5 lunga chiude 4 stringi, sinistra 4 taglia poco, apre, e destra 5 corta taglia, in sinistra 3 taglia 30, destra 3 chiude 150, sinistra 4 non tagliare, 50, destra 5 chiude e destra 3 corta non tagliare, e sinistra 3 taglia, e sinistra 3 molto stretta su ponte, in destra 6, e destra 2 non tagliare, in sinistra 2, e tornante destro 30, sinistra 1 molto stretta, e destra 2 apre, in sinistra 4 corta 100, destra 4 in ponte molto stretta, e sinistra 2 non tagliare, in curva lente 30, destra 4 corta stringe, in destra 5, in sinistra 3, vera attenzione secca sinistra, in punta molto stretta, in sinistra 2 30, destra 1 e sinistra 6 stai al centro, e destra 2 stringe, in sinistra 4, apre 30, frena sinistra 3 lunga, in canyon, in destra 5 lunga, chiude corta 30, in sinistra 6, in destra 6 stai al centro, e frena 30, destra 2 e sinistra 2, e sinistra 4 non tagliare, e destra 4 corta, e sinistra 3, in destra 5 e sinistra 4 stringe, per destra 1 e destra piena, in destra 5 e sinistra piena, attenzione destra 3 frena, in ponte molto stretta, in destra 4 non tagliare, 50, sinistra 3 chiude, stringe, in destra 4 chiude, non tagliare, in sinistra 5, e destra 6, in sinistra 4 lunga, chiude l'arco, in destra 4, e sinistra 4 corta, in sinistra 2 apre, in destra 4 corta, in sinistra piena, in destra 4 corta, in sinistra piena, in sinistra 2 chiude, non tagliare, 120, sinistra 4 non tagliare, in destra 4 chiude, in sinistra 3 l'arco, in destra 4, 30, sinistra 4 lunga, chiude, e sinistra 4 corta, in destra 6, in destra 4 chiude, non tagliare, 50, attenzione, 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 destra 2, 30, sinistra 3 lenta, in destra 5 chiude, attenzione, destra 2, 30, sinistra 3 lenta, in destra 5 chiude, destra 4 corta, apre, e chiude 3 corta, non tagliare, 50, sinistra 3 corta, In tornante destro, non tagliare. E tornante sinistro, tieni. In tornante destro. In sinistra 2. E destra 3, chiude. In sinistra 2, chiude. E destra 2, apre 30. E destra 2, apre 30 per arrivo. E destra 2, apre 30. E destra 2, apre 30. Grazie a tutti.